Una sorpresa ma non riguarda le proposte di Confcommercio la riserva anche Rivoluzione Cristiana che annuncia il passo indietro del suo candidato sindaco, l'ex preside di Parini Pedretti a sostegno di Niccolò Mardegan di Noi per Milano e il presidente Rotondi pronto a fare da capolista. Per promuovere l'unico candidato giovane, l'unico candidato di Milano, l'unico candidato che ha una cultura politica.